A chi vieta la vittoria col Puntedera per il Pineto è già vigilia di campionato. Il recupero col Pescara di domani sera testerà la condizione della formazione di Amaulo rimigorita dai tre punti presi proprio nello stadio dove domani sera andrà in scena il derby abruzzese di Lega Pro. Out pellegrino per infortunio, Iaccarino per squalifica. Possibile che Ciacchier possa partire dal primo minuto dopo la doppietta di due giorni fa. Sì, importante sì, ma noi siamo un gruppo forte, unito e quindi ora ci riposiamo, ricopriamo le forze e siamo pronti per giocare mercoledì. Questi due gol per me sono molto importanti perché arrivo da una stagione non molto sfortunata, con un po' di infortuni eccetera, ma con la fiducia del presidente, della società, del mister, del direttore e qua mi sto trovando molto bene e sono contento di aver contribuito a questa vittoria. Secondo me abbiamo fatto una partita tutti di sacrificio, abbiamo giocato in Coppa mercoledì, non era facile ritrovare subito le energie eccetera, però siamo stati bravi. Soffrire ci sta, in 90 minuti si soffre e ci sta, però il mister lo dice sempre, i cambi sono fondamentali, ma siamo un gruppo molto forte, compatto e quindi non ci sono problemi sotto questo aspetto. Due gol per chiudere la pratica per l'attaccante con un'esultanza che ricorda quella di un giocatore di Serie A che per caratteristiche gli somiglia. Ti dico la verità, ho guardato all'esultanza di De Frelle, mi è piaciuta che poi non è l'arcere più, però vabbè, bell'esultanza, mi piace. La dedica per i due gol ovviamente è scontata. Vabbè, è normale, va alla mia famiglia, che pur essendo lontani ci sono sempre e niente, va a loro. C'è a Chirre in un reparto che in questo momento vede tutti più o meno sullo stesso piano a livello di gerarchie con la possibilità di una variazione sul tema rappresentata dal tridente. Per noi attaccanti conta segnare, poi le scelte che prende il mister sono dovute a tanti fattori. Io il mio l'ho fatto e vediamo mercoledì. Davanti non ho molti problemi, cioè se largo, punta centrale a due, non mi trovo bene. Poi con Emilio, Gambale, Giambè siamo abbastanza dinamici, quindi ci troviamo bene. Grazie. Grazie. Grazie.